Il Barcellona è finito. Il Campione d'Europa per la quinta volta, la quarta negli ultimi nove anni, 3 a 1. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incasti e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarmi. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbagliare. I migliati fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Andare nel dribbling, ecco Di Bala, si gira, prova al tiro! Rada! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti!